Filomena. Si appresta ad entrare in campo il casale senatore di Stretto Pasculanum. Il casale senatore nasce nel 1946 in onore del Santissimo Sacramento per volontà di Francesco Senatore e del figlio Salvatore. Quest'ultimo, genio artistico di indiscusse qualità, crea negli anni un'immagine di gruppo paramilitare con costumi e ornamenti di armigeri rinascimentali. Ed uno di questi particolari, la cosiddetta borgognotta italiana, comunemente detta l'elmo, a caratterizzare ancora oggi il casale senatore, oltre al suo andamento marziale cadenzato da chiarine e tamburi come marchio di originalità. A causa della prematura scomparsa di Salvatore, il primo genito Francesco, la guida del suo dalizio, ha dato continuità alle ambizioni del suo predecessore. Oggi, a sottolineare la continuità e la volontà del casato di tramandare di padre in figlio le tradizioni cavesi, il casale vede la quarta generazione impegnata alla sua direzione, il passaggio del testimone dunque da Francesco a Salvatore, primo nipote del fondatore a distanza di vent'anni dalla sua scomparsa. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con leone rampante, scende in gara con il trinomio fuoco-colore-movimento per questa esibizione e dunque il casale è pronto per la sua gara di spara. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con leone di spara. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con leone di spara. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con leone di spara. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con leone di spara. Il casale, che adotta i colori sociali giallo-nero con la sua scomparsa. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no!